Il dramma dei profughi raggiunge Milano. Tanti immigrati che in queste ore affollano la stazione centrale e per lo più in transito per raggiungere Germania e Francia. Palazzo Marino chiama a raccolta le associazioni e chiede un tavolo di coordinamento per gli aiuti. La Scala ha vissuto una giornata drammatica, almeno così l'ha definita l'assessore alla cultura Filippo Del Corno. Il teatro, così come altre realtà della scena milanese, ha di fatto bocciato il decreto valore cultura ed è pronto a presentare un documento unitario al governo. Sabato prossimo si terranno a Milano i funerali di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia uccisa dal marito nel 2009. La figlia Denisa ha voluto che le esegui e si tenessero nel capoluogo lombardo. Sarà presente il sindaco Pisapia. La questione IRPEF è approdata oggi in Consiglio Comunale. La maggioranza conta di alzare la soglia di esenzione a 20.000 euro, ritoccando i 15.000 previsti nella prima stesura del bilancio. I fondi per la manovrina arriveranno dagli accorgimenti legati all'IMU. Si prospettano sedute incandescenti. Buonasera a tutti, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione del TGN. Era il primo dei nostri titoli, l'avete sentito, l'emergenza profughi che ovviamente da Lampedusa si sposta e arriva anche a Milano. In stazione centrale in particolare arrivano dalla Siria, si fermano qui a Milano in transito per arrivare poi in Germania, in Francia e negli altri stati del nord Europa. Palazzo Marino chiama a raccolta le associazioni per organizzare un tavolo di coordinamento. Abbiamo sentito Pierfrancesco Maiorino, l'assessore alle politiche sociali, per noi l'ha sentito. Massimo Scarenzi. Fugono dalla guerra civile che ha devastato la Siria. Sono profughi accampati da settimane in stazione centrale. Poco cibo e ancor meno denaro in tasca. Aspettano a pochi metri dai binari il treno giusto, quello che potrà portarli a ricongiungersi con i parenti sparsi in tutta Europa. Una vera emergenza con il Comune di Milano che ha chiamato a raccolta le associazioni per organizzare gli aiuti attraverso un tavolo di coordinamento. Si tratta di famiglie spesso con bambini, situazioni per noi difficili. Non possiamo pensare che questo transito anche di pochi giorni possa essere l'occasione per lasciare da soli a se stessi, ad esempio, bambini di tre anni che dormono in stazione centrale. Per questo il Comune ha attivato una rete in questi giorni di associazioni cittadini volontari. Perché molti non vogliono essere riconosciuti qui perché hanno già un tragitto per andare da altre parti. Però ci sono i bambini, i bambini con la loro famiglia e quindi dovremo intervenire. Il Comune si è già mosso a dire questo, però abbiamo bisogno di risposte e anche di risorse. Ad occuparsi dei profughi in transito nelle ultime settimane sono stati giovani musulmani, ragazzi nati e cresciuti in Italia, seconde generazioni che hanno accudito i profughi con cibo, coperte e giocattoli per i più piccoli. Il pericolo concreto ora è il possibile arrivo di un racket di organizzatori di viaggi della speranza. Viaggi in macchina verso il nord Europa attraverso frontiere italiane in cambio di centinaia o migliaia di euro. La pagina è legata alla scala adesso perché l'assessore alla cultura di Milano, Filippo Del Corno, ha definito quella di oggi una giornata drammatica. Il tema in discussione, i nuovi provvedimenti legislativi sulle fondazioni lirico-sinfoniche che le singole realtà, la scala in testa, hanno intenzione di rimandare al mittente, cioè al governo. Intanto il 7 dicembre in occasione della prima, decorato di Fratelli d'Italia, vorrebbe Milano in piazza contro il governo Letta. Sentiamo Stefano Fomagalli. L'invito ad unire le forze è condiviso anche dalla CGL di Milano, oltre che dall'amministrazione del Comune, dal Piccolo Teatro, dalla Scala, di Milano e da moltissime realtà italiane. Proprio alla Camera del Lavoro oggi i sovrintendenti e direttori dei principali teatri si sono riuniti per discutere del nuovo decreto Valore Cultura nato per aiutare i teatri in crisi, ma che ha finito per diventare un problema per i poli culturali. Tutti insieme contro quella che è una vera spina nel fianco per il futuro delle fondazioni lirico-sinfoniche, investite dal decreto legge che di fatto arriverebbe ad equiparare i teatri stabili alle pubbliche amministrazioni, senza riconoscere l'eccezionalità di alcune realtà milanesi e italiane. Un disegno pericoloso, secondo l'assessore alla cultura del Comune di Milano del Corno, che vede quella di oggi come una giornata drammatica. Una giornata che si chiuderà con un documento comune dai vari CDA in programma e che verrà sottoposto al governo in modo da ricevere le dovute attenzioni per far sì che il decreto non si trasformi in una serie infinita di tagli senza cognizione di causa. Dalla scala e dal piccolo la levata di scudi è per difenderci, dicono gli addetti ai lavori. In discussione la parte economica ma anche quella gestionale, con norme ritenute incompatibili con le realtà teatrali. Fa diventare i teatri delle pubbliche amministrazioni, degli uffici pubblici e quindi li sottopone alle regole anche procedurali. 15 isole digitali apriranno ai milanesi e ai turisti in vista di Expo 2015. Si tratta di spazi dove sarà possibile avere il wifi gratuito, colonnine per ricaricare i dispositivi elettronici, totem, touchscreen e postazioni dove noleggiare quadricicli elettrici. Dalle panchine in legno si potrà scoprire cosa accade in città attraverso uno schermo interattivo con informazioni, notizie, trasporti e viabilità. Disponibili in tutto 60 mezzi elettrici biposto a cui sarà possibile abbonarsi con tessera annuale, mensile o settimanale. Li vedete nelle immagini. Si terranno sabato prossimo a Milano i funerali civili di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia uccisa nel 2009 dal marito Carlo Cosco. La figlia Denise ha voluto che le esequi e si tenessero qui nel capoluogo Lombardo. Sarà la città di Milano sabato mattina a dare l'ultimo saluto a Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia uccisa dal marito Carlo Cosco, il 24 novembre del 2009. Il funerale civile si terrà in piazza Beccaria alle 10 e mezza. A chiederlo è stata la figlia Denise, coraggiosa testimone di giustizia, che ha denunciato la sua famiglia e ora vive sotto protezione. È Denise che lo chiede, una ragazza che è rimasta sola, che ha perso la sua mamma, che ha avuto il coraggio di rompere l'omertà, il silenzio mafioso. Adesso ha denunciato gli autori che hanno ucciso suo padre, la parte della sua famiglia che gli hanno ucciso la sua cara mamma. È lei che ci invita, ci invita tutti. Nella giornata di sabato si terranno diversi eventi organizzati dall'Associazione Libera e dal Comune di Milano. In via Montello, nella stessa strada del palazzo, sequestrato all'Andrangheta, sarà intitolato un giardino alla memoria di Lea Garofalo. 3.000 le bandiere di Libera, pronte con il volto di Lea e la scritta Vedo, sento, parlo. Denise Cosco ha scelto di regalare un segnalibro a chi sarà presente sabato, un piccolo dono con una frase in ricordo della madre. Il Comune di Milano, parte civile nel processo per l'omicidio di Lea Garofalo, ha ribadito l'impegno concreto dell'amministrazione nella lotta alle mafie. Per anni si sono sottovalutati i rischi di infiltrazione mafiosa, dell'intervento della mafia sui grandi appalti o anche sui subappalti. Io credo che abbiamo fatto dei grandi passi avanti, abbiamo ancora del tempo per arrivare a una soluzione definitiva che possa darci quella garanzia che è necessaria. Si è aperta questa mattina l'udienza preliminare a carico dei 53 imputati della maxinchiesta Briantenopea. Davanti al GUP del Tribunale di Monza è arrivato anche il presunto boss Giuseppe Esposito, alias Beppe Ucurto, ritenuto dalla Procura di Monza vicino alla Camorra ed accusato di associazione a delinquere finalizzata a vari reati ed arrestato insieme all'ex assessore all'ambiente del comune di Monza Giovanni Antonicelli. Si sono discusse alcune eccezioni preliminari, tra le quali è stata accolta la richiesta del legale difensore di Esposito che chiedeva di non ammettere alcuni atti depositati successivamente alla chiusura delle indagini. Tra gli imputati, quasi tutti presenti in aula, alcuni andranno a patteggiamento mentre altri verranno processati secondo rito abbreviato ma la decisione in merito verrà presa il prossimo 4 novembre e questa è la data della prossima udienza dopo il rinvio odierno. Inizierà il prossimo 27 novembre il processo con rito abbreviato a carico di Franco Ugetti, il sedicente mago Franco finito in carcere lo scorso luglio con l'accusa di aver violentato e truffato per circa sei anni numerose clienti con problemi personali di natura psicologica incassando circa 200 mila euro solo negli ultimi due anni. Il PM di Milano Giovanni Polizzi infatti nelle scorse settimane ha chiesto il processo con rito immediato per Ugetti e l'imputato ha fatto poi istanza per l'abbreviato che comincerà davanti al GUP Carlo De Marchi. Secondo le indagini della Guardia di Finanza il sedicente mago, 62 anni, originario di Pavia avrebbe chiesto in alcuni casi veri e propri sacrifici fisici alle clienti che andavano dai rapporti sessuali fino a molestie di ogni genere al taglio di ciocche di capelli. Dieci le vittime indicate nell'ordinanza di arresto. Io con la scusa di leggere le carte ho infuso fiducia a queste persone. Così si era difeso Ugetti nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Milano Franco Cantù Rainoldi. L'addizionale IRPEF al centro delle discussioni di Palazzo Marino in queste ore il ritocco propone di innalzare a 20.000 la soglia di esenzione a 20.000 euro che in aula proderà invece come quota 15.000. La manovrina sarà possibile grazie ai ritocchi già fatti sull'Imu. L'aumento dell'una potrebbe garantire esenzioni più alte all'altra. Protagoniste le imposte IMU e IRPEF, la prima innalzata. Sulla prima casa ha tanto da aumentare fino a 13 milioni di ricavo gli utili per calmierare la violenza dei ritocchi previsti sulla seconda. Il Consiglio Comunale oggi si è riunito con questa agenda a trovare la quadra dei conti rispetto alla delibera di giunta presentata dall'assessore al bilancio Francesca Balzani con scaglioni che andranno dallo 0,67 allo 0,80 per chi supera i 70.000 euro di reddito mentre la soglia di esenzione passerebbe da 33.000 a 15.000 euro. Troppo poco anche secondo la maggioranza in Consiglio Comunale che invece tenterà di innalzare l'asticella a 20.000 euro, forse 22.000 utilizzando i proventi dell'Imu a compensazione. Correzioni che potrebbero rivedere il bilancio del Comune anche sotto altri aspetti per migliorare la fruibilità degli abbonamenti ATM agli under 26 e over 65 e per aiutare fasce di popolazione particolarmente fragili secondo i criteri ancora in discussione. Il PD in Consiglio ha deciso di portare avanti questa iniziativa in modo da garantire l'esenzione dell'IRPEF al 51% dei milanesi numeri che però l'opposizione ha già annunciato di non digerire visto che le richieste dagli scranni del centro-destra viaggiano su soglie molto più alte dai 25 ai 30.000 euro e proprio sulle tasse si giocherà buona parte della politica dei prossimi giorni con il PDL pronto a portare in aula diverse proposte per abbassarle così come il miglioramento di alcuni aspetti legati alla vita economica dell'ente come i pagamenti delle multe, voce che segna buchi per il mancato incasso di molte sanzioni. Venerdì 18 ottobre sciopero generale nazionale del trasporto pubblico locale ovviamente interessata anche Milano oltre ai treni si fermeranno anche i mezzi di ATM lo comunica l'azienda in una nota per venerdì 18 ottobre le organizzazioni sindacali Alcoba, Scub Trasporti e USB Lombardia hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con modalità che variano da città a città Milano saranno dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio Trenord invece annuncia possibili disagi per gli utenti del servizio ferroviario regionale dalle 21 di giovedì 17 alle 21 di venerdì 18 in occasione di questo sciopero il servizio sarà regolare tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 di venerdì mentre nelle altre fasce orarie la circolazione dei treni regionali e suburbani potrebbe subire ritardi, variazioni di percorso addirittura cancellazioni possibili ripercussioni sulla circolazione dei treni sono da mettere in conto anche a ridosso dell'orario dell'inizio dell'agitazione sindacale e dopo la sua conclusione questo è quanto dice Trenord lavori bloccati per due anni a causa di uno stop ordinato dall'antimafia per una presunta infiltrazione della criminalità organizzata tra le imprese coinvolte nell'appalto per la corsia preferenziale a Milano tra piazza Zavatari e piazzale Stuparic adesso finalmente la situazione si è sbloccata i lavori possono partire ma difficilmente la realizzazione sarà pronta per Expo 2015 Carreras entro breve tempo finalmente dovrebbero partire i lavori per la realizzazione della nuova corsia preferenziale tra piazza Zavatari e piazzale Stuparic a Milano lunghezza 980 metri l'impegno è stato preso dall'assessore Carmela Rozza un'indagine condotta dalla procura antimafia aveva bloccato la realizzazione che viene considerata essenziale per agevolare il trasporto pubblico di filobus, autobus e taxi nella zona di piazzale Lotto sono trascorsi due anni dalla prima aggiudicazione dell'appalto da 6 milioni di euro nel 2010 la gara era stata assegnata a un'impresa ma dopo un anno il comune aveva risolto il contratto si passò ad una seconda impresa e ci fu un altro stop questa volta da parte dell'antimafia che inviò un'allerta da Salerno alla prefettura di Milano per possibili infiltrazioni della criminalità organizzata a causa della presenza nell'accordata di costruttori del gruppo Esa Costruzioni già nel mirino della guardia di finanze della procura di Napoli che ha anche disposto un sequestro da 145 mila euro morale si sono accumulati oltre due anni di ritardi la vicenda si è sbloccata lo scorso giugno quando è subentrata una nuova impresa a quella interdetta dalla prefettura dunque adesso dovrebbe essere la volta buona per riuscire a terminare i lavori per la preferenziale della circonvalazione ritenuto un'opera strategica per Milano ricordiamo che anche in Viale Abruzzi lavori che pure sono avanzati però non sono ancora conclusi da Palazzo Marino fanno sapere che tuttavia difficilmente la preferenziale circolare sarà pronta per l'Expo 2015 e se così sarà si studieranno possibili sospensioni dei cantieri per agevolare il traffico la buca che si è formata in via Foscolo in pieno centro a Milano a due passi dalla galleria adesso la vedrete nelle immagini continua a creare disagi la strada resta chiusa rimarrà transennata come vedete fino al termine dei lavori che inizieranno domani dopo il sopralluogo odierno dei tecnici del comune all'origine della voragine c'è il cedimento delle condotte dell'acqua di scarico ma da Palazzo Marino sottolineano l'incidenza che ha avuto il transito di mezzi pesanti nella zona legato ai cantieri aperti per alcuni lavori in galleria domattina si provvederà alla riparazione delle tubazioni ovviamente pioggia e meteo permettendo la durata dei lavori è ancora da definire tutto dipenderà dalle condizioni delle condotte danneggiate poi la copertura della buca la parte più semplice dell'intervento prima del ritorno alla normalità presidio dei vigili del fuoco a Milano in piazza San Babila per protestare contro le condizioni di lavoro dopo i tagli del governo i pompieri denunciano l'eccessivo utilizzo di volontari e l'eliminazione di mezzi e sedi su tutto il territorio i vigili del fuoco protestano per le condizioni di lavoro estremamente peggiorate dopo i tagli imposti dalla spending review oggi in piazza San Babila l'unione sindacale di base ha organizzato un presidio per denunciare la situazione venerdì 18 ottobre invece andrà in scena lo sciopero generale l'organizzazione del soccorso risulta sempre più compromessa denunciano i pompieri i camion sono costretti a uscire con meno personale dai sei vigili di una volta ora si rischia di uscire in formazione ridotta con tre o quattro pompieri con automezzi che risalgono agli anni 80 squadre di soccorso ridotte così come il numero dei distaccamenti operativi sul territorio spesso gli autisti sono sostituiti da volontari utilizzati secondo il sindacato di base in modo sconsiderato per tagliare i costi negli ultimi anni poi è arrivato il blocco degli aumenti contrattuali e dei passaggi di qualifica quando vengono fatti i tagli ai vigili del fuoco il tutto ricade sulla cittadinanza noi non saremo più in grado di prestare soccorso come facevamo fino a pochi anni fa perché alcune sedi verranno tagliate il personale sarà in meno abbiamo automezzi che vengono mandati in officine per essere riparati non vengono restituiti dagli officine blocchi amministrativi perché l'amministrazione nostra non è in grado di far fronte al pagamento delle fatture oltre al problema per chi lavora dentro c'è anche un problema di sicurezza per i milanesi soprattutto c'è un problema di sicurezza dei milanesi e questo è quello che noi cerchiamo di far passare all'esterno cioè cerchiamo è lampante prendendo i fogli di servizio degli anni passati rispetto a quelli di oggi i pompieri puntano il dito contro il prefetto di Milano Tronca ex capo dipartimento dei vigili del fuoco che durante il suo mandato avrebbe favorito l'assunzione di precarie e l'utilizzo dei volontari a discapito dei professionisti questo pomeriggio alle 16 grande evento in piazza città di Lombardia all'ombra del palazzo della regione è stata creata una sorta di cittadella dello sport dove si sono esibiti giovani talenti e campioni affermati di varie discipline qui vedete la ginnastica ritmica in azione il tutto nell'ambito della manifestazione sport and talent voluta dall'assessore regionale allo sport Antonio Rossi 124 ragazzi selezionati dalle varie federazioni sono stati premiati dai loro beniamini olimpionici di Vancouver 2010 e di Londra 2012 tra gli altri la sciatrice Daniela Mereghetti la ginnasta Romina Laurito che vedete impegnata con le sue compagne nella ginnastica ritmica il collega Matteo Morandi bronzo agli anelli a Londra 2012 non sono mancate le polemiche all'indomani della prima domenica a Milano con chiusura del traffico a macchia di Leopardo come sempre città divisa tra favorevoli e contrari deluse soprattutto le associazioni ambientaliste le domeniche a spasso creavano polemiche ma anche la domenica con manifestazioni cittadine a macchia di Leopardo non è da meno per l'assessore Chiara Bisconti c'è stato un passo indietro ma solo per questioni di bilancio molto deluse le associazioni ambientaliste altri sono favorevoli meno limitazioni alla circolazione più libertà di movimento e anche chi voleva correre o partecipare ad eventi culturali o attività sportive è stato accontentato il tema è di quelli che ovviamente dividono ognuno resta della propria opinione ieri a Milano è stata sperimentata la prima chiamiamola così mini domenica con traffico parziale solo 4 le zone vietate alle 4 ruote Corso Buenos Aires via Giambellino via Lecertosa e la cosiddetta Milano Romana da via Luini a via Brisa e poi i 15.000 in corsa nella DJ Ten con percorso di 5-10 km da Palazzo Marino fanno sapere che ben 12.000 persone hanno visitato i musei 700 i visitatori alla Milano Romana decine di migliaia in corso Buenos Aires ambientalisti e ciclisti però manifestano la loro contrarietà le risorse sono scarse per definizione in questo momento aggiungo sono scarsissime è sacrosanto che si debbano quindi gestire con oculatezza il punto è di capire se fosse possibile fare diversamente e per cui per esempio dicevo chi ha detto che durante le domeniche a spasso ci debbano essere i biglietti dell'ATM a durata giornaliera anziché con la durata ordinaria di 75 minuti chi ha detto che il bike sharing deva essere utilizzato gratis senza limiti di tempo e così via l'iniziativa le domeniche a spasso ha un valore culturale noi l'abbiamo sempre detto e continuiamo a sostenere questo aspetto che quindi è importante per proprio promuovere e favorire una mobilità diversa un'idea diversa di muoversi in città si svolgeranno domani martedì 15 ottobre alle ore 15 e 30 nella parrocchia di Santo Stefano in piazza Petazzi a Sesto San Giovanni funerali della giornalista Sara Bianchi morta sabato all'età di 45 anni sino all'ultimo lottato contro un male incurabile Sara Bianchi per tanti anni è stata il volto del telegiornale di Telenova oltre ad occuparsi di trasmissioni di cronaca e attualità è poi passata al sole 24 ore dove lavorava al sito internet del quotidiano economico sempre molto apprezzata per le doti professionali e umane era anche segretario dell'associazione Lombarda dei giornalisti e vice fiduciario regionale dell'Imci le condoglianze di tutta Telenova al marito e alla sua famiglia e dopo caro saluto a questa nostra collega vediamo che cosa ci riserva la serata sugli schermi di Telenova a 19.40 tra poco Luciano Rindone con i suoi ospiti per Nova Stadio Spring per approfondire i temi del calcio di questo lunedì che segue non un weekend di Serie A bensì precede una partita della nazionale alle 20.30 la politica con linea d'ombra Lombardia in conduzione ovviamente Adriana Santa Croce alle 23 torna l'informazione con il TGN della notte adesso il meteo e quest'edizione termina qui dopo ve l'abbiamo già detto il calcio con Luciano Rindone buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.